Il nuovo direttore dei musei civici di Bassano è Roberto Pancheri, ha lavorato alla Pinacoteca di Milano e alla Regia di Caserta. Entro l'anno le quasi mille cause civili bassarensi saranno trasferite al Tribunale di Vicenza in città tutti contro questa soluzione. Merostica, la denuncia dei cittadini in via Pertini, siamo stati sommersi dall'acqua, il comune ci ha lasciati soli. Ex officina del gas, l'azienda avrà 12 mesi per bonificare la zona e tal gas coprirà tutti i costi dell'operazione. Spaccia davanti all'oratorio picchiato dalle suore, la bufara comparsa sul web tra in inganno molti cittadini e anche qualche politico. Dopo l'addio di Dario si infiamma la polemica in città sull'ospedale, per Zambon la regione non punta su Cittadella, la smentita di Piero Bon. Scappa da un macello, Torre fugge e crea il panico sulla Val Sugana preso dopo un'ora e mezzo di inseguimento. Buonasera a tutti voi, in apertura una notizia giunta poco fa alla nostra redazione. È Roberto Pancheri, 44 anni, studioso di pittura e scultura veneta dell'età moderna, con particolare riguardo alla pittura locale e alla scultura canoviana, il nuovo direttore dei musei civici di Bassano. Pancheri ha trascorso in prestigiosi istituzioni in Italia e all'estero, in particolare nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano, la regia di Caserta, in Russia e in Austria. Roberto Pancheri, nel giudizio della Commissione, ha preceduto di mezzo punto Sandra Rossi e di un punto Chiara Casarin. E riflettori di nuovo puntate sul Tribunale di Bassano che entro l'anno perderà un'altra fetta importante della sua attività e ancora una volta scoppia la polemica. Entro la fine del 2016 Bassano perderà anche le cause civili. I 975 procedimenti pendenti finiranno infatti nei meandri del Tribunale di Vicenza. Tutto secondo programma, conferma l'ex Presidente degli Avvocati Bassanesi, Francesco Savio. Si sapeva che prima o poi sarebbe intervenuto un provvedimento che avrebbe chiuso questo utilizzo di questi locali. A far discutere ancora una volta però sono le ragioni alla base di questa decisione. A giudizio dell'attuale Presidente del Tribunale, Alberto Rizzo, il trasferimento a Vicenza infatti permetterebbe di risparmiare utenze e affitti bassanesi. Una questione sulla quale Savio ha qualcosa da obiettare, visto che il Ministero continuerà comunque a pagare affitti e utenze dei palazzi Antoni Bon e Cerato, ben oltre il 31 dicembre prossimo. Cerato lo paghiamo già, pur non essendoci nulla dentro. Antoni Bon lo continueremo a pagare perché c'è giudice di pace finché ce lo lasciano dentro. Per cui i costi saranno sempre quelli. Abbiamo in meno per i cittadini un servizio in città che riguarda tutti i casi in cui un cittadino deve andare in udienza o deve andare a testimoniare in un'udienza di cause bassanesi. Un servizio in meno a costi maggiori perché dovranno andare a Vicenza. Ma è logico perché a Vicenza bisogna trovare un posto dove metterli. Qui a Bassano l'affitto viene pagato, il riscaldamento viene pagato, per cui i costi resteranno uguali, solo che le udienze si traranno a Vicenza con la gioia dei cittadini bassanesi. Per risolvere almeno in parte il problema, il Ministero promette l'apertura in città dello sportello di prossimità, uno sportello virtuale in cui le udienze potranno essere svolte anche in videoconferenza. Non si sa cosa sia, ne parlano sempre, ma concretamente non si vede nessuna proposta neanche, si parla di collegamenti telematici, quindi finché non lo vedo non ci credo. Ma quanto accadrà dunque nei prossimi mesi? Potrà compromettere il sogno del Tribunale della Pedemontana? La strada del Tribunale della Pedemontana, che pur è in un momento di impasse, è diversa perché è una proposta per migliorare il servizio giustizia, non di Vicenza del Veneto. E quindi è una cosa completamente diversa. Poi che ci arrivi non meno a capirla a Roma, boh, non lo so. Il Tribunale di Bassano è la nostra linea del piave e non si tocca prima chi di dovere mantenga le promesse sulle nostre richieste formali di creare il Tribunale della Pedemontana, l'ottavo Tribunale del Veneto. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto commenta la notizia del trasferimento nel capoluogo berico di tutte le cause civili pendenti a Bassano. In calza al Governatore, se ci accadesse saremmo di fronte all'ennesimo schiaffo al bisogno di giustizia di migliaia e migliaia di imprese e cittadini, ma anche al mancato rispetto di impegni solennemente presi per dare con il Tribunale della Pedemontana un futuro di efficienza alla gestione della giustizia di una delle aree del Veneto più popolate di cittadini e di imprese. Ed ora siamo alla denuncia di un gruppo di cittadini di Marostica, siamo stati lasciati soli dopo essere stati colpiti da una bomba d'acqua. Vorrei ricordare che qui per puro caso non ci sono stati dei morti e se ci fossero stati ragioneremmo a livello di codice penale, di tribunale. Un inferno d'acqua. Le case di via Pertini, a Marostica, completamente sommerse in dieci minuti. Era il 21 luglio del 2014. Dopo pochi giorni a Refrontolo sarebbe avvenuta la tragedia del Molinetto della Croda. Qui si è rischiato grosso. La traccimazione di due corsi d'acqua è stata veloce. Le persone sono riuscite solo a mettersi in salvo ai piani superiori. Nove le famiglie che hanno subito danni per decine di migliaia di euro. Ora hanno costruito questo muro. Le spese coperte di tasca propria. 10.000 euro. Avendo questo lungo cavedio che è lungo 80 metri, riempendo tutto il cavedio più tutti i semi interrati, abbiamo fermato tonnellate di acqua per tutto il quartiere, per tutta la zona. E abbiamo pagato noi. Sono stati lasciati soli dall'amministrazione. Il comune naturalmente dice che non ci sono soldi e quindi non possiamo aspettare che arrivino così dal cielo. E allora ci abbiamo dati da fare. Le situazioni ci si sente abbandonati? Certo, assolutamente. È questo che mi fa un po' rattristare. Perché io mi considero un contribuente onesto. Ho sempre pagato le tasse. Ho sempre rispettato tutto quello che c'era da rispettare. Chi doveva vigilare non ha vigilato, dicono questi cittadini delusi, che parlano anche di burocrazia soffocante. Per costruire la muretta hanno dovuto trovare l'intesa con tre enti diversi. Ma gli enti che si occupano dell'ambiente in questa zona sono troppi? Sono tre solo su cento metri. Il demanio, poi il consorzio e i servizi forestali. Tre enti che non sono riusciti, nonostante l'alluvione del 2010, a fare un monitoraggio di quest'area che è a rischio. Ora una banca del territorio ha pensato di donare a queste famiglie una cifra importante. E una domanda sorge spontanea. Ma perché ai cittadini deve pensarci sempre il privato e non il pubblico? Svolta per la bonifica dell'ex officina del gas vicino alla stazione. Il servizio. Chi è responsabile dell'inquinamento, quindi chi aveva l'attività all'epoca, deve poi pagare le spese di bonifica. In 12 mesi Italgas dovrà bonificare la zona. In questo caso si segue il principio di chi inquina paga. Si tratta della terza ed ultima porzione dell'ex officina del gas in via Tabacco, a sud della stazione ferroviaria di Bassano. Nelle scorse ore all'ARPAV di Vicenza conferenza dei servizi decisiva. 12 mesi divisi in 9 mesi per l'elaborazione del progetto e l'appalto dei lavori e 3 mesi per poi l'effettiva esecuzione dei lavori fisici che andranno a bonificare l'area. Nel sottosuolo sono stati trovati livelli di inquinamento superiori ai limiti consentiti. Dopo la bonifica l'azienda dovrà monitorare la zona per 7 anni. Il tutto rientra nel cosiddetto piano mar, possibile una futura destinazione a verde di quest'area. Il piano mar è silente ma non è morto, nel senso che ce ne stiamo occupando. Sicuramente la bonifica di quella zona era un passo fondamentale per qualsiasi cosa si deciderà di fare su quell'area. E ricordo a voi telespettatori il nostro Tg Linea Aperta di questa settimana con il Consiglio di Stato che ha stoppato i lavori sul ponte di Bassano e quindi stop ai lavori sul ponte. Ora chi pagherà i ritardi? Come sempre potete dire la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Ed ora invece parliamo delle risorse arrivate alle scuole del Vicentino. La riforma, dice il senatore Santini, prevede altri investimenti. Senza l'impegno di questo governo le risorse non sarebbero mai arrivate. Così il senatore Giorgio Santini del PD commenta lo sblocco dei soldi destinati alla messa in sicurezza e l'efficientamento dei plessi scolastici del Vicentino. Alla sola a Rosà destinati più di 2 milioni di euro. È frutto della buona scuola di Renzi, precisa l'esponente PD. In questi casi è necessaria la volontà politica, cosa che in passato non c'è stata. Questo è un programma che sta andando avanti anno per anno, finalmente arrivano anche in tutte le province le varie situazioni che si sbloccano e quindi questo è un segnale positivo di un programma, ripeto, che durerà ancora nel tempo. Questo dunque è solo un primo step. La riforma prevede altri investimenti per il territorio. Nel corso dei prossimi mesi le risorse arriveranno in tutta la regione. Poco a poco toccherà tutti i comuni che hanno fatto richiesta di avere il risanamento delle scuole. È una promessa mantenuta questa da parte del vostro... Assolutamente sì, assolutamente sì. Un grave incidente in A4, un'operazione antiprostituzione a Tiene ed una notizia che ha fatto discutere non poco a Bassano. Questa è l'altra notizia nel nostro prossimo servizio. Un camionista rimasto ferito in un tamponamento tra mezzi pesanti è avvenuto nel tratto vicentino dell'autostrada A4 Serenissima verso Venezia, all'altezza della prima galleria dei Colliberici. Inevitabile conseguenza alle lunghe code di veicoli formatesi durante le operazioni dei soccorritori. L'autista ferito è stato trasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza ma non sarebbe in pericolo di vita. Leggere contusioni invece per gli altri due camionisti. Tiene. Gli agenti della polizia locale nord-est Vicentino hanno sequestrato un appartamento in via Dante utilizzato da alcune prostitute cinesi per ricevere i propri clienti. I vigili sono intervenuti dopo aver svolto un'attività di controllo in borghese. Nella casa hanno trovato una donna cinese, irregolare in Italia e più di 1300 euro in contanti. Per la polizia locale ci sarebbe una vera e propria organizzazione, con tanto di call center per prenotare gli incontri a gestire queste prostitute. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le responsabilità anche della proprietà o dell'agenzia alla quale era stata affidata la locazione dell'immobile. Bassano del Grappa spacciava davanti all'oratorio aggredito dalle suore grave marocchino di 22 anni. E questa è la notizia rimbalzata in pochi attimi sui social network di centinaia di bassanesi che senza troppo pensare hanno condiviso la notizia del fantomatico giornale online lanozione.it per poi accorgersi che il fatto di cronaca, stando alla notizia avvenuta a Bassano, era la più classica delle bufale. A cascarci non solo normali cittadini, ma anche noti esponenti della politica bassanese. Restiamo a Bassano. Si svolgerà domenica in Piazzotto Montevecchio la terza giornata della prevenzione realizzata grazie alla collaborazione tra ULSTRE e diverse associazioni del Bassanese. Per tutta la giornata verranno effettuati gratuitamente elettrocardiogrammi, misurazione della pressione e controlli della glicemia grazie alla collaborazione di cardiologi, diabetologi e infermieri dell'ULSTRE e di personale volontario delle associazioni. E vi ricordo domenica 22 maggio i veneti schiacciati dalla crisi tornano a traccia la manifestazione del volontariato di Bassano giunta all'ottava edizione. Un'occasione importante che permette alle associazioni del territorio di presentarsi e di far conoscere anche le loro attività. Quindi l'appuntamento è fissato in centro storico tra Piazza Libertà e Piazzotto Montevecchio dalle 9 alle 18. Troverete anche la nostra Mirella Tuzzato con i suoi volontari che vi aspetteranno numerosi. Sette cittadini dell'Est sono stati rinviati a giudizio per aver fatto prostituire una decina di ragazze nell'alta padovana e in alcuni casi anche violentandole e costringendole all'aborto. Le portavano in Italia promettendo loro una vita dignitosa da cameriera o da commessa, ma quando mettevano piede qui le ragazze si accorgevano subito che la loro vita sarebbe stata ben diversa da quella che immaginavano. Sette romeni sono ora a processo in corte d'assise a Venezia per aver ridotto in schiavitù una decina di connazionali. Le hanno costrette non solo a vendersi nelle strade del cittadelese e trevigiane, ma anche a subire violenze inaudite come stupri e aborti. Pesantissime le accuse. Gli imputati devono rispondere di associazione delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, all'induzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, ai danni anche di donne minorenne introdotte in Italia in violazione delle leggi sull'immigrazione sottoposte a violenze sessuali aggravate dalle condizioni di inferiorità fisiche e psichiche della vittima e per aver adoperato nei loro confronti se vizie altriché aver agito con crudeltà. Devono anche rispondere del reato di procurato aborto nei confronti di due ragazze, una delle quale violentata e costretta ad assumere delle pastiglie nonostante lo stato di gravidanza avanzato. Le indagini erano state avviate dai carabinieri di Cittadella nel 2012 e coordinate dalla procura di Padova che aveva individuato le due bande rivali di stranieri che si facevano la guerra per il controllo del territorio. E si infiamma il dibattito politico a Cittadella oggetto del contendere la sanità. I saluti di Claudio Dario, arrivati con largo anticipo rispetto alla fine del periodo di commissariamento accendono la polemica politica a Cittadella. La campagna elettorale si infiamma. Il direttore generale chiamato a Trento non ci ha pensato su due volte. Per Adamo Zambon, candidato del centro-sinistra, questo non è un buon segnale per il nosocomio cittadino. Continua e inesorabile il declino della nostra ulse. Io sono estremamente preoccupato, lo dico da mesi, per l'ospedale di Cittadella. Si brancola nel buio, si brancola senza sapere dove si va a finire. È questa la riforma della sanità della Lega e di Zaia. È così che Bitonci e Pan difendono il nostro ospedale. Si rischia, secondo Zambon, di perdere servizi essenziali. È fatta in modo che le eccellenze continuino a operare nel nostro territorio per stare vicini ai cittadini e puntate sulla medicina di gruppo. Ribatte Luca Piero Bon, attuale sindaco reggente, che dice la nostra sanità non è in pericolo. Abbiamo già parlato con Zaia il giorno stesso in cui Dario ha dato le dimissioni. Zaia ha già le idee molto chiare sulla persona che dovrà venire a gestire la nascente ulse provinciale e sarà una persona di spessore. Noi continuiamo a credere nell'ospedale. La regione Veneto ha intenzione di investire. Sbandierano questo, Spauracchio sostiene Piero Bon per intimorire gli elettori, ma il loro racconto non corrisponde alla verità. L'ospedale di Cittadella è fondamentale. Anzi, con la nascente ulse provinciale, l'ospedale di Cittadella avrà sempre più importanza perché diventerà l'ospedale di Padova Nord. Quindi sarà un ospedale per acuti che farà riferimento non solo all'Alta Padovana, ma a tutta la parte che parte da Limena fino a Cittadella. È durato quasi un'ora e mezza questa mattina l'inseguimento di un bovino fuggito dal macello di Campo San Martino a cui era destinato. Forestale, carabinieri, vigili del fuoco, personale veterinario dell'ULS, oltre agli addetti del macello da cui era scappato, hanno inseguito l'animale che nella fuga è finito nelle acque del Brenta. La fuga è terminata solo a Curtarolo. Impossibile percare l'animale che è stato dunque abbattuto da un agente della forestale. E vediamo gli appuntamenti di Greta Veneta di questo fine settimana. Sentiamo da Angelo Squizzato alcune anticipazioni della puntata di Agricoltura Veneta. Buonasera a tutti, vi parliamo del mercato ortofrutticolo di Chioggia. C'è un nuovo amministratore unico ed è Giuseppe Boscolo Palo. Una nomina, è un ritorno per lei qui nel mercato? Un ritorno finito nel 2012, riprendo nel 2016. Era presidente però? Prima c'era un consiglio di amministrazione, adesso si è provveduto a fare un amministratore unico. Per semplificare? Il suo obiettivo? Il mio obiettivo è creare trasparenza all'interno della struttura del mercato, trasparenza contrattuale e qualità del prodotto. Come sta questo mercato? Ma va ripreso e va inserito all'interno di un progetto più ampio, con il mercato di Rosolina e anche il mercato di Lusia. Su che prodotti si fonda soprattutto? Si caratterizza per quali prodotti? Il nostro è sul radicchio tondo, il nostro mercato, così come quello di Rosolina. L'obiettivo è quello di caratterizzarlo al radicchio di Chiogegipi. Vi parleremo quindi della presenza dei buoni formaggi veneti a Cibus di Parma, in particolare i formaggi dell'Ateria Soligo e poi di agriturismo. Si profila una bella estate per gli agriturismi. E poi tante, tante notizie di appuntamento a domani e domenica con Agricoltura Verità. Buona charata a tutti. La grande attualità, sempre sotto la lente di focus, dalle 21.05 in studio con il nostro direttore Luigi Baccialli. Gli ospiti saranno Luigi Amendola, Luciano Sandonà, Ivan Palasgo, Pietrangelo Dal Sotto, Stefano Marrone, Pierluigi Pasqualetto e come al solito attendiamo anche numerosi vostri sms. Vi ricordiamo invece l'appuntamento di domenica con la diretta del raduno nazionale dei fanti a partire dalle 10 fino al termine dell'evento che vedrà arrivare a Brescia migliaia di fanti. E come sempre trasmissione non stop con i vostri sms. Ora vi lascio le previsioni del tempo. Vi ringrazio dell'attenzione. Arrivederci. Grazie all'anticicone della zona che si spinge verso di noi avremo assicurato un fine settimana di bel tempo, anche se non durerà molto. Comunque prevediamo sul Bassanese e sul Vicentino per sabato e per domenica c'è l'imprevalenza sereno. Ecco, un po' di attività cumuliforme durante il pomeriggio, più intensa verso il Bassanese, verso i rilievi, ma non ci saranno effetti assolutamente. I venti saranno deboli di direzione variabile. Le temperature 15-16 gradi le minime, 22-23-24 gradi su Bassanese, un paio di gradi in più sul Vicentino. Per finire l'altariatico è previsto da poco mosso a localmente mosso. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti Grazie a tutti